Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence TV per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dall'A1 dove a causa di un incidente si registra un chilometro di coda tra Valdichiane e Chiusichianciano in direzione Roma. In A1 si ricorda che a causa di lavori sono chiuse le corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci con possibili disagio alla circolazione. Passiamo alla FIPILI dove a causa di un veicolo in avaria si segnala un chilometro di coda tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione Livorno. Sulla statale Trebis Tiberina si ricorda che sempre a causa di lavori in direzione Ravenna sono chiusi gli svincoli di Balsavignone e Sansepolcro Sud, viabilità di Firenze a causa di un intervento urgente momentaneamente chiusa via del Gelsomino con disagio alla circolazione. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!